Musica Buongiorno dalla redazione di Telebari, un saluto a chi ci segue in diretta su Radio Bari. Trasporto scolastico nel caos dopo i ritardi di inizio anno, oggi difficile passaggio di testimoni tra le ditte appaltatrici del servizio mentre i dipendenti protestano. Silvia Dipinto Un rientro tra i banchi difficile per genitori e alunni delle scuole materne, elementari e medie che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. Avevamo già denunciato ad inizio anno i ritardi nella fornitura di un servizio che dal 1 gennaio subisce rincari tra i più pesanti d'Italia. Gara per l'affidamento del trasporto scolastico bloccata da mesi per l'inchiesta della procura di Bari, che ha portato al rinvio al giudizio di 8 imprenditori titolari di 9 ditte che hanno fornito fino a dicembre il servizio di trasporto in regime di proroga, accusate a vario titolo di truffa aggravata e froda in pubbliche forniture per non aver rispettato il contratto con l'amministrazione comunale. Mezzi senza assicurazione con revisione scaduta, troppo piccoli e insicuri. Queste alcune delle irregolarità contestate agli indagati per l'anno scolastico 2005-2006. Oggi il passaggio di testimone in pieno anno scolastico con le nuove ditte affidatarie del servizio in seguito a trattativa privata con il comune. Una staffetta non priva di problemi, come denunciano i dipendenti. Io sono stata contattata da diversi genitori, nonché direttori di scuole, che o non si sono visti arrivare il pulmino, giustamente, purtroppo non è colpa nemmeno della nuova azienda. Per carità, si organizza prima nelle segreterie questo lavoro, poi si contattano i genitori, si mandano i circolari. Noi diamo i nostri numeri di telefono per eventuali contatti con il genitore, cosa che per i tempi così stretti non c'è stata possibilità di, purtroppo, di fare. Qualche disagio c'è stato, ma promette l'assessore alle politiche giovanili Fabio Lossito, da lunedì rientreremo a regime. Sicuramente qualche piccolo problema può essere sorto, ma al di là del fatto che oggi il servizio non è partito ancora a pieno regime, da lunedì siamo sicuri che il tutto andrà a posto e speriamo che non ci sia nessun tipo di problema, oltre quello che ci viene segnalato dai lavoratori. Ritardo di due anni nella consegna dei lavori per piazza San Pietro a Barivecchia, mentre dei tanto attesi San Pietrini davanti al piazzale della Basilica nemmeno l'ombra. Ce ne parla Silvia Dipinto. Quattro anni non sono stati sufficienti a concludere i lavori previsti dal sesto percorso urban per attrezzare piazza San Pietro e dintorni con nuova pavimentazione e sottoservizi quali fogna, luce, acqua, gas e cablaggi per la telefonia. Due anni di ritardo sulle scadenze concordate e costi lievitati di servizi prevedibili, secondo il presidente della nona circoscrizione Mario Ferrorelli. Conoscevo che il rischio ci fosse rispetto ad imprese che non fossero all'altezza dell'appalto che gli veniva assegnato. Purtroppo le esigenze dell'amministrazione furono quelle di continuare questo appalto e purtroppo i risultati li vediamo perché siamo con oltre due anni di ritardo sulla consegna dei lavori. Che cosa significa vivere per quattro anni con un cantiere aperto? Con un cantiere aperto siamo stati mali, io sto malissimo. Sì, molto in ritardo sono andando. Noi vogliamo che deva andare molto avanti, a meno che venne l'estate, piove d'estate e quella è la paura mia. Nessun impegno di spesa, progetto a breve termine inoltre per il rifacimento della pavimentazione nel tratto antistante la Basilica di San Nicola con i San Pietrini attesi dall'inizio della prima legislatura. Sentiamo il Presidente Ferrorelli. Per quanto riguarda la Basilica di San Nicola e il largo urbano secondo, purtroppo la situazione della ricopertura dei San Pietrini è rimasta assolutamente senza né gara d'appalto né copertura finanziaria. E questo è veramente un pessimo biglietto da visita offerto ai cittadini, soprattutto russi, che vengono tantissimi pellegrini a Bari e che vedono questo scenario assolutamente degradato proprio sul viale che porta alla Basilica di San Nicola. È arrivato poco fa nel porto di Bari il traghetto della compagnia Arberia, battente bandiera panamense, in navigazione da Durazzo, da dove all'alba di oggi un uomo di nazionalità albanese di 29 anni si è lanciato in mare dopo aver litigato con la moglie. È accaduto a circa 40 miglia da Bari all'altezza delle coste di Monopoli. Le ricerche dell'uomo supportate da motovedetta della Guardia Costiera, una motovedetta della Guardia di Finanza ed un elicottero dell'aeronautica militare sono tuttora in corso.